Il mio nome è Moira Barton, se riuscite a capire dove siamo, vi sopplico per l'amor del cielo aiutatevi, guarda se nessuno è là fuori, no questa cazza di cosa, sono qui piccola, per favore tieni duro Ora sta qui alla barca, signorina capito? Ho delle cose da grandi da sbrigare ma tornerò più tardi, ok? Non puoi lasciarmi così! No, 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 no Non puoi seguirmi, è troppo pericoloso Ma neanche qui sarò al sicuro Esiste una ragazzina al mondo che faccia quello che dico? Va bene, stammi vicino No, sei con me ora, andiamo No, no, inconsistent Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Non ti faccio paura? No, sembri a posto. Seguimi. Sì. L'attenta. Come ti chiami, piccola? Natalia. Beh, è proprio un bel nome. Io sono Barry. Barry? Esatto. Facile da ricordare. È vero. È vero. È vero. È vero. È vero. È vero. Che. Sono근cato. È vero. Non c'è. È vero. 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 Grazie. 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 Seguimi. Sì. I mostri. Mostri? Dev'essere uno degli infetti citati nel briefing. Grazie. La giù. Un altro. Come lo sai? Riesco come a... ...vederli. Oh, no. Fermati, bambina. È troppo pericoloso. Perché? Non ho paura. C'è qualcosa più avanti. Attento. C'è qualcosa più avanti. Ora tocca a me occuparmene. Aspettami qui. Ok. No. 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 Seguimi Sì Sì Vieni con me Arrivo Aspettami qui Ok Bye Seguimi Sì Rimani qui Ok C'è qualcosa più avanti Attento Sì Sì Aspettami qui Ok Seguimi Sì 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Aspettami qui. Ok! Seguimi. Sì. Aspettami qui. Ok. Carino. Ma sarà meglio trovare un modo per fermarlo. Seguimi. Sì. 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 Aspettami qui. Ok. È la sala di controllo. Aspettami qui. Ok. Attento! C'è qualcosa sul pavimento! Aspettami qui. Ok. Ok. Aspettami qui. 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 Sì. 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 Aspettami qui. Ok. C'è qualcosa più avanti. Attento. 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 Sì. Sì. Aspettami qui. Ok. Seguimi! Sì! Il nostro arriva. Seguimi. Sì. Sì. Rimani qui. Sì. 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 Seguimi Sì Aspettami qui Ok Aspettami qui Aspettami qui Aspettami qui Serve aiuto Seguimi Serve aiuto Aspettami qui Seguimi Si Aspettami qui 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 qui Siamo quasi alla torre radio Aspettami qui 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 Aspettami qui 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 Aspettami qui 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 Aspettami qui 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 Niente, è chiusa dall'altro lato Siamo al capolinea Cosa facciamo? Ora dovremo trovare un'altra strada Barry, è chiusa Cosa faccio? Devi rompere il lucchetto Vedi qualcosa intorno che puoi usare? Bel lavoro Seguimi Sì Restami vicino, ok? Ok 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 Grazie a tutti Grazie a tutti C'è qualcosa là fuori Stai indietro Dov'è andato? Aspettami qui Ok Seguimi Si Ok 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 Seguimi Sì Sì Seguimi Sì 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 Forse posso rompere il lucchetto Sì Eccoli Nasconditi Aspettami qui Ok Ok. Seguimi. Sì. Sì. Ci siamo quasi. Seguimi. Sì. La torre radio un po' più avanti. La torre radio un po' più avanti. Grande. Dobbiamo sfondare il cancello. Merda. La torre radio un po' più avanti. Aspettami qui. Ok. Seguimi. Sì. 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 Aspettami qui. Sì. 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 Se riesco a far andare la gru potrò abbattere i cancelli Grazie per la visione Seguimi Sì Seguimi Sì C'è qualcosa più avanti, attento Aspettami qui Ok Seguimi Sì Aspettami qui Ok Seguimi Sì Seguimi Sì Aspettami qui Ok Dannazione Dov'è il generatore? Sì 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, questo rottame non funziona. Grazie a tutti. Ehi, ragazzina, stai bene? Ehi, ragazzina, stai bene? Moira... Lei è morta. Cosa? Ma se siamo stati... Ma se siamo stati infettati con qualcuno... Ma se siamo stati infettati con qualcuno... Ehi, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.